Musica Chiusure anticipate dei locali, feste vietate, stop a calcetto e sport amatoriali, cene in casa raccomandate al massimo per sei persone. Questi i punti principali del nuovo decreto anti-covid approvato dal governo. Insorgono le associazioni piacentine degli esercenti. Oggi nella nostra provincia il rallentamento del covid con 14 nuovi contagiati. Il primario di malattie infettive dell'ospedale di Piacenza, Mauro Codeluppi, invita i cittadini a prestare massima attenzione tra le mura domestiche. Il crollo del Ponte Lenzino ha imposto una riorganizzazione dei soccorsi di emergenza primaria in Alta Valtrebbia. Da domani presidio di 24 ore al giorno per la Croce Rossa di Ottone e presenza di un'automedica del 118 dalle 8 alle 20. Due nuove piazzole per l'atterraggio dell'elisoccorso. Doppio appuntamento su Tele Libertà a partire dalle 20 e 30. A zona sport tra gli ospiti il capitano della Gas e il Blue Energy Volley Trevor Clemenot, mentre alle 21 l'attrice Letizia Bravi a dar show. Ciao! Grazie a tutti.